Ben trovati, la notizia purtroppo è molto negativa, poi parleremo della Juventus, è morto Gian Piero Ventrone, 62 anni, il Marine che ha vinto tutto con la Juventus, con la Nazionale, ora stava al Tottenham, un grande personaggio, un grande preparatore atletico, un grande uomo dietro al quale si sono fondate tantissime vittorie della Juventus, è stato con la Juventus di Lippi e di Ancelotti, con Conte, non andò alla Juventus ma è andato al Tottenham, il Conte lo stimava tantissimo, lo stimavano a tutti i livelli, è stato anche il preparatore atletico della Nazionale di Lippi in Germania 2006, insomma un grandissimo personaggio, è morto con una leucemia fulminante, era stato ricoverato soltanto sabato sera, il 4, non sabato sera, il giorno 4 e questa mattina alle 6.45, purtroppo è venuto a mancare al fate bene fratelli di Napoli, una bruttissima notizia, un uomo estremamente importante, lo chiamavano il Marine perché lui era stato con un corpo molto interessante nelle istituzioni, davvero molto bravo, è stato secondo i critici ma secondo tutti quanti il più bravo preparatore atletico negli ultimi 30 anni, uno che ha portato delle innovazioni nel calcio e non solo, ha portato grandi novità ma ha portato soprattutto vittorie per le squadre che lo hanno tesserato e soprattutto la Juventus con la quale, ripetiamo, ha vinto tutto e tutti e contro tutti quando? Quando naturalmente fu posto sotto accusa perché dato che era così bravo, dato che faceva vincere la Juventus non poteva non essere messo anche lui sotto accusa e sotto processo, in questa nazione di merda, in questa nazione vergognosa, in questa nazione dove chi vince purtroppo e in questo caso soprattutto la Juventus viene infangato a tutti i livelli con fake news, con bugie, con invenzioni come capita sempre e purtroppo questa è l'Italia. Addio Ventrone, grande personaggio, ti ricorderemo sempre con grande affetto, il Marine, c'era sempre quella speranza che potesse tornare alla Juventus, l'abbiamo sempre coltivata, purtroppo non sarà più possibile. Il posto partita rispetto alla gara con il Maccabi e un posto partita anche nell'intervento precedente molto particolare, non fosse altro perché la Juventus gioca un calcio molto penoso, un calcio lento, un calcio senza né capo né coda, un calcio che non si rifà assolutamente alle prospettive europee, né tanto meno a quelle nazionali, tanto è vero che terza in Europa, settima in campionato, questo è il posto che merita. Al di là degli errori arbitrali che hanno condizionato non poco il cammino in campionato, perché probabilmente alcuni punti erano stati già acquisiti sul campo, ma le invenzioni, le usurpazioni del sistema con la VAR in questo caso hanno tenuto la Juventus poco più dietro, ma poco più dietro perché è il settimo posto, diciamo la verità, non avrebbe nemmeno meritato di stare in testa della classifica né nei primi tre posti, merita il posto che occupa perché avendo il migliore organico del campionato ha il peggiore, se non il distruttore totale del calcio, cioè Allegri c'è il distruttore del calcio, quindi non può stare nel vertice della classifica, ma c'è anche un altro aspetto da valutare, quello relativo all'Inter per esempio, avete visto le accuse del Barcellona? Ma come mai questo VAR è sempre a favore dell'Inter? Come mai le cose dubbi del VAR le danno nell'Inter? Capita in Italia e capita in Europa, saranno potenti, io ho un'altra sensazione, ho la sensazione che questi vogliono salvarli dal punto di vista della società, ormai sono falliti, anche l'intervento di Moratti è stato molto chiaro, molto evidente, fallimento totale se Zhang decide di vendere, perché? È evidente, perché con Zhang praticamente possono ancora giocarci sopra, possono tenere il carro per la discesa, come si dice a Napoli, un carro per la scesa, nel momento in cui c'è qualcuno che voglia rilevare l'Inter le prospettive diventano diverse, perché ha 900 milioni di passivo, che presto sarà un miliardo e 200 di passivo, chi se la prende chi ricapitalizza, quindi se Zhang decide di vendere, che cosa succede? Succede che non c'è nessuno che la prende e allora sarà fallimento netto, nitido, oggi è fallita perché dovrebbe portare le carte in tribunale, ma non le porta, invece per quel che concerne l'eventuale vendita, calerebbe la maschera e anche la struttura sopra la quale si regge la fake news la cadrebbe, quindi stanno tenendo Zhang per forza all'Inter, perché se no devono ammettere totalmente il fallimento anche le istituzioni che non richiedono i libri in tribunale, questa era l'ultima notizia, ma sull'Inter che ne parliamo a fare? La vergogna assoluta mondiale!